Bella corsa, eh? Marendo. 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 Oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio. Madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. L'ospizio dei vecchi è a Marendo, a 80 chilometri da Algeria. Ho preso l'autobus delle due. Faceva molto caldo. Ho dormito quasi tutto il percorso. Famiglia Mersot? Sì. Posso vedere subito mia madre? Dovrà prima vedere il direttore. Sì. Sa, dobbiamo seppellirla subito per via del gran caldo. Qui non ci sei ancora abituati all'idea che già bisogna correre dietro al carro. Ah, fitto, ti pare il caso di dire al signore certezza? No, anzi, è interessante. Venga con me. La signora Mersot è entrata qui tre anni fa. Lei era il suo unico sostegno. Io non sono che un impiegato. Immagino che risulti dall'incartamento. Lei non ha bisogno di giustificarsi, caro figliolo. Suppongo che lei voglia vedere sua madre. L'ho fatta trasportare nella nostra piccola morga per non impressionare gli altri. Senta. Vuol vedere se... Sì, signor direttore. Lei non era in grado di provvedere a sua madre. Le occorreva un'infermiera. Lei ha uno stipendio modesto. Poi, tutto sommato, la signora Mersot era più felice qui. Sì, sì. Da molto tempo non avevamo più niente da dirci. E lei si annoiava a restare sempre sola. È già qui. L'hanno chiusa. Ora tolgo subito il coperchio, così lei può vederlo. Come? Non vuole? No. Perché? Non lo so. Capisco. Si sieda. Ha un cancro, quella. Per cenare, se vuole, può andare al refettorio. No, no, grazie, non ho fame. Vuole che le porti una tazza di caffè latte? A volentieri, mi piace il caffè latte. Allora devo lasciarla. Si è fatto sera quasi d'un tratto. Dietro la vetrata si è avvenzato il buio della notte. Fra poco verranno gli amici della sua signora madre per la veglia. si usa così. Intanto io preparo le sedie e vado a prendere un po' di caffè. da molto tempo lei sta qui. Cinque anni. Fuma. No. 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 Non si potrebbe spegnere una delle lampade? Eh, non è possibile. L'impianto è fatto così. O tutte e due o niente. non si potrebbe spegnere un po' di caffè. Grazie a tutti Era molto affezionata alla sua povera mamma Dice che era l'unica amica che aveva qui e che ora non ha più nessuno Grazie a tutti Grazie a tutti Non permettiamo mai ai ricoverati di partecipare ai funerali È una questione di umanità Ma ho fatto un'eccezione per un vecchio amico di sua madre Tommaso Perez Lei capisce un sentimento puerile Ma non si lasciavano mai All'ospizio li prendevano in giro È la tua fidanzata, dicevano aperto E questo gli faceva piacere È la tua fidanzata, dicevano aperto È la tua fidanzata, dicevano aperto È la tua fidanzata, dicevano aperto E questo è la tua fidanzata, dicevano aperto E questo è la tua fidanzata, dicevano aperto Di quella giornata mi è rimasto il ricordo della terra color sangue Che arrotolava sulla pala della mamma Lo svenimento di Perez I gerani rossi sulle tonde del cimitero Salute Ma è lui o non è lui? Maria È un pezzo che non ci vediamo Lavora sempre da Schiaffino? Sì E lei dove lavora adesso? Io sempre dallo spedizioniere dove sono andata quando ho lasciato Schiaffino Ah, peccato proprio che non sia rimasta con me Ah, ma come lavoro sta meglio dove sono ora Venga 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 It's R advers cerveza Mi sono disteso con la testa appoggiata al suo ventre, lei non ha protestato ed io sono rimasto così, avevo negli occhi tutto il cielo che era celeste e oro. Allora, che cosa hai deciso? Vuoi davvero andare al cinema? Sì, mi piacerebbe di vedere quel film con Fernandelli. Va bene. Sei in lutto? È morta mia madre. Quando? Ieri. È morta mia madre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tempo era bello, ma l'asfalto era umido e macchiato di grasso. I passanti diretti al centro erano rari e con l'aria frettolosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanti anni aveva sua madre? Una sessantina. Ah, ecco. Sentate. Emanuele? Emanuele? Andiamo. Andiamo. Emanuele? 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 Sì. Cosa vediamo oggi? Antipasto, bistecca, formaggio, frutta e caffè. Emanuele? 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 Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. 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 Migliacco. Che cosa ha fatto? Sempre fra i piedi. Vieni, carogna. Muoviti. È una bella disgrazia, eh? Non le fa schifo. No. Ho in casa del sanguinaccio e del vino. Perché non viene a mangiare un boccone con me? Volentieri, grazie. Dicevo, conoscevo una donna. E diciamo subito che era la mia amante. E' l'uomo con cui ho fatto appugni. E' il fratello, capisci? Parliamoci chiaro. Lo so cosa dicono di me nel quartiere, che io sfrutto le donne. Ma io ho la coscienza a posto. Sono un magazziniere. Ma torniamo alla mia faccenda. Dunque... Io le pagavo l'affitto della camera. Le davo un 20 franchi al giorno per mangiare. Un paio di calze ogni tanto. Insomma, erano mille franchi al mese. Ma la signora diceva che non le bastavano. Che non ce la faceva con quello che le davo. E allora dico io, ma perché non lavori magari solo a mezza giornata? Mi alleggeresti almeno delle piccole spese. Ma lei niente. E' stato così che mi sono accorto che c'era del marcio. Un giorno ho trovato nella sua borsetta un biglietto della lotteria. E lei non ha saputo dirmi come l'aveva fatto a comprarlo. Un'altra volta le ho trovato una polizza del Monte di Pietà. La prova cioè che aveva impegnato due braccialetti. Lei mi capisce? Chi gliel'aveva dati quei due braccialetti? Così ho visto chiaro. C'era proprio del marcio. E allora l'ho piantata. Però prima gliel'ho suonata. E gli ho detto il fatto suo. E cioè che lei non voleva fare altro che spassarsela con la sua cosa. E come gliel'ho detto lei lo capisce signor Mersu. Te la invidiano tutti la tua felicità. E un giorno il bene che ti davo lo rintiangerai. Prima di allora la picchiavo ma affettuosamente per così dire. Lei strillava un po'. Io chiudevo le persiane. E finiva sempre allo stesso modo. No. Tu sì. Ma ora è una cosa seria. E per me non l'ho punita abbastanza. Per questo volevo chiederle un consiglio. Prima avevo pensato di incastrarla. Chiamare la buon costume. Provocare uno scandalo e farla schedare. Poi mi sono rivolto a certi amici che ho nel giro. Mai niente da fare. Ma che serve essere nel giro? Mi hanno consigliato di sfregiarla ma non è questo che volevo. Ora mi dico un po' lei cosa ne pensa di questa faccenda? Non penso niente ma è interessante. Secondo lei c'è del marcio sì o no? Non ho forse ragione a dire che c'è del marcio? Sì certo c'è del marcio. Sì. Ma adesso le dico la mia idea. Voglio scrivere una lettera a questa donna. Piena di insulti e minacce. Ma al tempo stesso piena di cose che mi facciano rimpiacere. voglio farla venire da me e ci voglio andare a letto. Ho sempre nostalgia. È il suo coito. Lei mi capisce? Ma proprio al momento di finire le sputo in faccia e la butto fuori a calci. Che gliele vale eh? Sì sì mi sembra che così sarebbe abbastanza punito. Siamo d'accordo dunque. Il guaio è che io so quello deve essere il tono della lettera ma non sono capace di scriverla. È per questo che ho pensato a lei per buttarla giù. Le dispiacerebbe scrivermela subito. Adesso sei un vero amico. La donna si chiama Yasmina Vedanter. Araba. Maria è venuta a prendermi in ufficio. Abbiamo attraversato tutta la città passando per le strade principali. Le donne erano belle. E ho chiesto a Maria se lo notava anche lei. Lei mi ha detto di sì e che mi capiva. Tu mi sposeresti? Per me lo stesso. Ma se ci tieni possiamo anche sposarci. Ma tu mi vuoi bene? Non lo so. Se ci penso direi di no. Ma se vuoi sposiamoci. Ma il matrimonio è una cosa seria. No. 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 Ha detto che ero uno strano tipo. E forse proprio per questo mi voleva bene. Poteva anche essere però che per questa stessa ragione un giorno mi avrebbe disprezzato. Da quel momento abbiamo avuto fretta di tornare a casa. e buttarci sul mio letto. Avevo lasciato le finestre aperte. Ed era bello sentire il fresco della notte sui nostri corpi. Perchè non lasci la porta aperta? Viene un po' d'aria si sta meglio. Sì. Guarda che cosa mi sono messo. Ah, vediamo cosa hai comprato. Bravo, niente male. Che succede? Ah, è una storia che dura da otto anni. Il cane ha una malattia della pelle. Perde tutto il pelo. E si è coperto di croste. Il vecchio ha finito per rassomigliarmi. Da parte sua il cane ha imparato lo stesso modo di camminare del padrone. Sembrano della stessa razza. E tuttavia si detestano. Mi vuoi bene? Non ha molta importanza. Ma mi sembra di no. So, il vero è... Lo vero è vero. Vole ancora un raro. Oh, perché! Vole ancora un raro? Oh, perché! No, no! Ah, non! Oh, è il gioco! At parlo. Frega! Frega e frega! Ma ti faccio volere! Ti insegno io che succede! Ma ti frega uno come me! Guardi! Ma che succede? Fai qualche cosa, corri a chiamare una guardia! Non mi piacciono le guardie. Ci vado io a chiamare una guardia! Ci vado io a chiamare una guardia! Ci vado io! Eccola la guardia! Eccola! Venga sul poliziotto, presto, al secondo piano! Avanti, avanti, circolata! Andate via! Via! Così, va! Signora, guardi! Guardi che mi ha fatto! Mi ha picchiato! Come ti chiami? Raimondo Sanchez Levate la sigaretta di bocca quando parli con me! Posso raccattare la cicca? Sì, signore, puoi raccattarla! E ricordati che un poliziotto non è un manichino! Mi ha picchiato! È un magnaccio a Morras! È legale questo, signora, guardi, a dare del magnaccio a Uri! Sta zetto! Con te, piccola, ci rivediamo! Ho detto basta! E tu, via, fia là! Via, svelta, vattene via! Siamo intesi, tu non ti muovi di qui finché non riceverai la chiamata dal commissario, capito? Ti dovresti vergognare, sei ubriaco e tremi come una foglia! Eh, non sono ubriaco! Sono qui davanti a lei! E tremo! Per forza! Avanti, circolate, circolate, via! Signora, per cortesia, via! Ti ringrazio! In questa storia vi sei comportato da uomo? Ora sei proprio un vero amico! Hai fatto bene a dirgli che lei aveva cercato di fregarmi? Conosco bene i poliziotti e so come vanno presi! T'aspettavi che io reagissi al suo schiaffo? No, no, non mi aspettavo niente! Del resto i poliziotti non mi piacciono! Facciamo un giro? Va che passiamo un momento al casino? No, no, non mi va! E poi domani devo alzarmi molto presto! Sì, anch'io sono stanco! E poi per oggi basta con le donne! E così siamo tornati verso casa, camminando piano piano! Raimondo era molto cordiale con me! E io ho sentito che in quel momento stavo proprio bene! Signor Salamano, cosa è successo? Se ne è andato! Oh! L'avevo portato in piazza d'armi, come faccio sempre! C'era parecchia gente lì intorno ai baracconi! Mi sono fermato un momento per guardare il re delle evasioni e quando ho fatto per andar via, lui non c'era più! Avrei dovuto comprargli un collare più stretto ma non avrei mai creduto che quella carogna se ne potesse andar via così! Ma ritornerai? Eh, se almeno qualcuno lo raccogliesse ma questo non è possibile perché fa schifo a tutti con quelle croste! Chissà dove sarà finito! Ma è semplice, andate al canile municipale pagate la multa e ve lo restituiscono! Dovrei anche pagare per quella carogna! Per me può crepare! Buonanotte! E ancora grazie! È andato tutto benissimo! E mi sono levato la soddisfazione! Buonanotte! Che ne dice lei, signor Morsò? Se l'hanno preso me lo restituiranno! Io sono disperato! Perché non vi comprate un altro cane? Eh, no, io sono abituato a quello lì! Eh, capisco, e l'avevate da molto tempo! Dopo la morte di mia moglie! Io non sono stato mai felice con mia moglie! Ma in fondo mi era abituato a lei! E quando è morta... Eh, mi sono sentito solo! Allora pensai di chiedere un cane a un compagno d'ufficio! E lui mi regalò quello che era ancora cucciolo! Ho dovuto allevarlo dandogli il biperò! E siccome un cane vive meno di un uomo, abbiamo finito per diventare vecchi insieme! Aveva un brutto carattere, ma era un buon cane, tutto sommato! Un cane di razza, no? Oh, peccato che lei non l'abbia conosciuto prima della malattia! Il pelo era la cosa più bella che aveva! Ma la sua vera malattia era la vecchiaia! E non si guarisce dalla vecchiaia! Eh, già! La sua povera signora madre voleva molto bene al mio cane, sa? E anche lei, signor Morsò, deve essere molto infelice ora! Speriamo che i cani non abbaino questa notte! Credo sempre che sia il mio! Buonanotte! 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 Non so perché ho pensato alla mamma! Sì, d'accordo! Benissimo! È un mio amico, si chiama Masson, molto simpatico! Ci invita Domenica alla sua capanna al mare! Ma sì, gli ho parlato di te! Certo, puoi portare la tua amica! La moglie di Masson si sentirà meno sola in mezzo a noi tre! Adesso devo lasciarti! Adesso devo lasciarti, mi chiamano, non posso... Aspetta, è importante! E spiegati! Volevo dirti una cosa! Sono stato seguito per tutto il giorno da un gruppo di arabi! Uno di loro è il fratello della mia amante! Se rientrando lo vedi vicino a casa, avvertimi! Hai capito? Avvertimi! Sì, sì, ho capito! Verso! Sì! Chi vuole il principale? Va bene, stai tranquillo! Su, vai! Arrivederci a domani! Avanti! Avanti! Si accomodi! Si accomodi! Senta, Amorso, vorrei parlarvi di un progetto ancora molto vago, ma intanto vorrei conoscere la sua opinione in proposito! Ho intenzione di aprire una succursale a Parigi, per trattare gli affari direttamente sul posto, con le grandi compagnie! Volevo sapere se lei sarebbe disposto ad andarci! Questo le permetterebbe di vivere a Parigi e di viaggiare buona parte dell'anno! Lei è giovane! Mi sembra che una vita del genere dovrebbe piacerle! Sì, 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 ma... in fondo per me è lo stesso! Come? A lei non farebbe piacere di cambiare vita? La verità è che non si cambia mai vita! Le vite si equivalgono tutte! E la mia qui non mi dispiace affatto! Non ho nessun motivo per cambiarla! Lei non risponde mai a tono, sempre a mezzo! Non ha nessuna ambizione, ecco! E per chi è negli affari è disastroso! Vada, vada, ne parleremo un'altra volta! Quando ero studente avevo molte ambizioni ma quando fui costretta ad abbandonare gli studi capì subito che tutte queste cose non avevano una vera importanza allora io domando scusa Ah, il tempo è spiegato! Mi fa piacere! Cos'hai dentro la porta? Fammi vedere cosa hai portato! Ma che cosa cerchi? Non c'è niente da mangiare! Ho preso solo i costumi da bagno! Ti ho fatto aspettare, eh? Salute! Ti presento Maria Cardona Raimonda Santesi C'è tempo per un caffè? Sì, sbrighiamoci, lo sto già spesso Che cos'è c'è? Il secondo è a sinistra è il mio uomo Andiamo? Tre caffè Ma cosa c'è? Ah niente, sono degli arabi che ce l'hanno correndo Ah, ecco l'autobus Allora andiamo via, niente caffè Ho ormai una faccenda chiusa non può più succedere niente Andiamo? Grazie Grazie a tutti Proprio bravo Guarda qua che frittura Ehi Masson Masson Tua moglie è contenta di te? Sì Bene Aspettami Lo sai che stamattina non mi hai dato neppure un bacio? Senti Perché non dici al tuo capo ufficio che ci hai ripensato E che accetti il posto a Parigi Così io vengo con te Mi piacerebbe vedere Parigi Ci ho vissuto Tanto tempo fa Tanto tempo fa E com'è? Fai presto che è quasi pronto Va bene Il bassone è già andato su Guarda Andiamo a mangiare? Sì ho fame Andiamo Vieni in acqua Vieni in acqua Sapete che ore sono? Sono le undici e mezzo Abbiamo mangiato prestissimo E va bene così Perché l'ora giusta è l'ora in cui si ha fame Vogliamo fare una passeggiata sulla spiaggia? Mia moglie dorme sempre un po' dopo mangiare Va bene riposare Io non sono d'accordo Ho bisogno di camminare Signora Masson Io resto e l'aiuto a fare i piatti Allora andiamo? Sì Vieni mondo Vieni anche tu Su su Facciamo presto Ehi Muori Sì E quando tornerete ci troverete addormentate come due angioletti Sì 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 E' lui, non c'è dubbio Ma scusa, come hanno fatto a seguirvi fino a qua? Ci hanno visto prendere l'autobus Se veniamo alle mani, tu, Masson, ti occupi del secondo Io mi occupo intanto del mio uomo E tu, Masson, se ne arriva un altro, è per te Masson, a te Porco, il Giacomo Guarda che gli faccio Stai attento, a un cortello Mafferito Fai vedere Ma sfregiato No, no, fai vedere Sì, ma non sfregiato Ma no, non è niente, non ti preoccupare, vieni Ehi, ehi, presto Presto, venite Vieni fuori No, 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 niente di grave Che è successo? Signorina Signorina Venga C'è un dottore che ha un capanno poco distante Che viene sempre la domenica Vado a chiamarlo Ma no, è una ferita superficiale Possono benissimo Ma che è successo? Ma niente, è stata una bollettina Andiamo Ma no, è una ferita superficiale Raimondo Lasciami in pace Lo faccio fuori? Non puoi sparargli così Non ti ha neanche rivolto la parola Allora lo insulto E se reagisce l'ammazza No Parlagli da uomo a uomo Dammi la pistola Se l'altro interviene O tira fuori il coltello Ci penso io Hai visto? Se ne sono andati Eh sì, hanno capito Già Bene Sarà meglio tornare in città L'ultimo autobus parte alle 5 Grazie mille Grazie mille Sono rimasto sui primi gradini completamente stordito dal sole. Scoraggiato davanti allo sforzo che avrei dovuto fare per salire in casa e affrontare ancora le donne. Sono ritornato sulla spiazza e mi sono messo a camminare. Sono ritornato sulla spiazza e mi sono messo a camminare. Sono ritornato sulla spiazza e mi sono messo a camminare. Sono ritornato sulla spiazza e mi sono messo a camminare. La spiazza e mi sono messo a camminare. Mi sono scorrato via il sudore e il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno, lo straordinario silenzio di quella spiazza. E furono come quattro colpi secchi battuti alla porta della sventura. E furono come quattro colpi secchi battuti alla porta della sventura. Sono riusciati. Arturo Mersot Nato ad Algeria il 7 marzo 1903 Impiegato Ha già pensato a scegliersi un avvocato? No, non credo che sia necessario Perché? Perché il mio caso È talmente semplice Lo portano qui? Ho ammazzato un arabo È talmente semplice È talmente semplice È talmente semplice Grazie Vuoi fumare? Sì Non è talmente semplice Non state mai a sentire quello che vi si dice Dovevate metterlo in cella di isolamento Non capite mai niente Su, dai, sbringati No, su No, su Su, alzati Via, via, in cella di isolamento E avanti Ti muoviti Tu accompagnano Vieni con me Dai, svetto Sono il suo avvocato Mi hanno incaricato Amico Ho esaminato l'incartamento Il suo è un caso delicato Ma sono sicuro Ma sono sicuro del successo Se lei avrà fiducia in me Grazie Entriamo nel vivo della questione Sono state prese informazioni sulla sua vita privata Sappiamo che sua madre è morta recentemente all'ospizio E' stata fatta un'inchiesta A Marengo E hanno scoperto che lei ha dato prova di Insensibilità Il giorno del funerale Mi dispiace toccare questo argomento Ma è importante E potrebbe essere un elemento molto forte per l'accusa Se non sono messo in condizione di confutarlo Mi dica Ma lei ha veramente sofferto quel giorno? Mi è difficile risponderle Io volevo bene la mamma Ma Questo non vuol dire niente Tutti gli esseri normali hanno più o meno desiderato La morte di una persona cara Mi promette di non dire cose simili all'udienza E soprattutto al giudice istruttore Vede Il giorno del funerale della mamma Io ero molto stanco Avevo sonno Non riuscivo a rendermi conto di quello che succedeva Quello che posso dirle è che Avrei preferito che la mamma non fosse morta Va bene ma questo non basta Posso dichiarare almeno che lei ha Dominato i suoi sentimenti naturali? No Perché non è vero Tanto perché si regoli il direttore e il personale dell'ospizio saranno certamente citati come testimoni dall'accusa e questo potrebbe diventare pericoloso Ma questa storia non ha niente a che fare col mio caso Si vede che lei non ha mai avuto rapporti con la giustizia Voleva bene a sua madre? Sì come tutti Lei ha sparato cinque colpi di rivoltella Uno dopo l'altro vero? No Prima ho sparato un colpo solo E dopo qualche secondo gli altri quattro Infatti Perché Ha aspettato tra il primo e il secondo colpo? Perché ha sparato su un colpo già a terra? Perché? Bisogna che lei me lo dia Perché? Perché? E questo? Lei lo conosce questo qui? Sì naturalmente Io credo in Dio E sono convinto che nessun uomo è colpevole al punto che Dio non possa perdonarlo Ma bisogna per questo che l'uomo diventi come un bambino La cui anima è vuota E pronta ad accogliere tutto A mio parere c'è solo un punto oscuro nella sua deposizione Il fatto che lei abbia aspettato prima di tirare il secondo colpo di rivoltella Fino a quel punto è tutto chiaro Ma da lì non capisco più E lei? Lei crede in Dio? No Ma è impossibile Tutte le creature umane credono in Dio Anche quelle che si sono allontanate da lui Io ne sono convinto Se dovessi dubitare nella mia vita non avrebbe più senso Lei vuole che la mia vita non abbia più senso? Questo non mi riguarda Io sono cristiano E domando io perdono delle tue colpe a questo qui Come puoi dubitare che gli ha sofferto per causa tua? Lo vedi? Lo vedi? Anche tu credi e ti affiderai a lui? No Non ho mai avuto a che fare con un'anima incallita come la tua Tutti i criminali che sono passati di qui hanno pianto davanti a questo simbolo del dolore Sei almeno pentito di quello che hai fatto Più che pentito Provo un certo fastidio Per oggi abbiamo finito Signor Anticristo Le donne è la prima cosa di cui ci lamentano tutti Beh, anch'io Trovo che è un trattamento ingiusto Ma è proprio per questo che vi mettono in prigione Come per questo? Ma sì La libertà è questa Vi si priva della libertà È vero Non ci avevo pensato Che punizione sarebbe se no? Bravo Lei capisce le cose Gli altri no Però finiscono col darsi sollievo da soli E allora? Hai bisogno di niente Gian non ha voluto prenderlo Gli ho detto che tu l'avresti ripreso appena uscito Ma lei non ha voluto prenderlo Raimondo ti manda i suoi saluti Dissi bene Ma sta bene? Non è mai stato meglio di così Bisogna sperare Uscirai e ci sposeremo Finito Uscire, uscire Finito Su, andiamo, andiamo Finito Uscire, uscire Andiamo su Sarai assolto Uscire Torneremo a fare i bagni Finito Arrivederci mamma Andiamo su Non credo che potrò più venire a trovarti Non mi danno il permesso perché Perché non siamo sposati Oggi hanno fatto un'eccezione Mi danno il come 5 mesi, 5 mesi, sono qui da 5 mesi. E così, presto è arrivata un'altra estate. Vediamo, adesso vorrei affrontare un argomento solo apparentemente estraneo a questa causa ma che invece la riguarda molto da vicino Dunque, nel mese di giugno dell'anno 1936 lei mise sua madre in un ospizio per vecchi È vero o no? Sì, signor Presidente Sì, e perché? Perché non avevo mezzi sufficienti per farla assistere e curare E mi dica, le è dispiaciuto molto di essere costretto a mettere sua madre in un ospizio per vecchi? Nella mamma né io ci aspettavamo più niente l'uno dall'altra e del resto da nessuno E ci siamo abituati presto alle nostre nuove vite Io non insisterei su questo punto a meno che il procuratore generale non desideri fare una domanda Con il permesso del signor Presidente io vorrei sapere se l'accusato è ritornato verso la sorgente da solo con l'intenzione di uccidere l'arabo Ma no! E allora, perché era armato? E perché è tornato esattamente in quello stesso luogo? È stato per caso Non voglio sapere altro per il momento Signor Presidente, mi permetta di intervenire Io protesto Un momento, un momento, avvocato Dunque, non facciamo confusione L'udienza è sospesa Sarà ripresa alle ore 14 per l'escussione dei testimoni L'udienza è sospesa Fate uscire l'accusato Grazie a tutti Vorrei sapere se la madre dell'accusato ha mai avuto occasione di lamentarsi con lei di suo figlio Sì, signor Presidente Ma è un po' la mania di tutti i ricoverati quella di lamentarsi della loro famiglia Sì Vorrei sapere anche se rimproverava a suo figlio di averla messa in un ospizio per vecchi Sì C'è qualche cosa che l'ha colpito in modo particolare nel comportamento dell'accusato? Sì La sua calma il giorno del funerale Intendo dire che mi ha sorpreso che si sia rifiutato di vedere sua madre che non abbia pianto neanche una volta e se ne sia andato subito dopo la sepoltura senza raccogliersi sulla tomba Sì C'è qualche domanda che il pubblico ministero voglia rivolgere al testimone? Oh no Questo mi basta Va bene così La ringrazio molto, signora Non ha voluto vedere sua madre Ha fumato Ha bevuto una tazza di caffè latte e poi si è addormentato Non ho sentito bene Prego il signor Presidente di chiedere al testimone di ripetere Se non è che questo... Ripeta, signore Ripeta Ho detto che durante la veglia a funebre ha bevuto una tazza di caffè latte ha fumato una sigaretta e poi si è addormentato Ho capito, grazie Domando la parola Signor Presidente le dispiace chiedere al teste se durante la veglia non ha fumato anche lui? Chi è l'accusato qui? Che cosa sono questi metodi? Che tendono a compromettere i testi dell'accusa? Per sminuirne le testimonianze che adesso sono tuttavia schiaccianti Ho fatto male, lo so ma non ho osato rifiutare la sigaretta che il signore mi ha offerto Forse l'accusato ha qualcosa da aggiungere? Niente Soltanto che il test ha ragione È vero, io gli ho offerto una sigaretta Sì, ma sono stato io a offrirgli il caffè latte I signori giurati apprezzeranno Infatti, i signori giurati apprezzeranno e concluderanno che un estraneo poteva offrire un caffè ma che un figlio doveva rifiutarlo davanti al cadavere di colei che l'ha messo al mondo Può raccontare che cosa ha fatto l'accusato il giorno del funerale di sua madre? Lei capirà Io ero talmente sconvolto E allora non ho visto niente Sono perfino svenuto Non ho potuto vedere cosa faceva il signore Ha visto almeno se piangeva? No I signori giurati apprezzeranno E ha notato invece che non piangeva? No Ecco il volto di questo processo in cui tutto è vero e niente è vero Grazie Non si preoccupi, va tutto per il meglio Lei stia tranquillo, conti su di me Avvocato, per piacere, che sta succedendo? Bene, sentiamo Il signor Mersot era un suo cliente? Sì, ma era anche un amico Già E che cosa pensa di lui? Io penso che è un uomo Che cosa intende con questo? Ma lo sanno tutti che cosa vuol dire Andiamo, 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 andiamo Lei ha notato che l'accusato era come suol dirsi poco comunicativo? E' uno che non parla se non ha niente da dire Ci dica Ci dica se pagava regolarmente i suoi conti Questi erano affari fra noi Vorrei che il test ci dicesse che cosa pensa del delitto dell'accusato Per me è una disgrazia Tutti sanno cos'è una disgrazia Capita e non c'è niente da fare Per me è una disgrazia Bene Bene, bene, molto bene La ringrazio Vorrei dire un'altra cosa Sì, ma sia breve, per piacere Dica E' una disgrazia Sì, ma sì, ho capito Noi siamo qua per giudicare le disgrazie Come questa Ecco, arrivederci Adio Vediamo Da quanto tempo lei conosce l'accusato? Da poco più di tre anni Parli più forte Da poco più di tre anni Da quando ero impiegata come dattilografa nello stesso ufficio del signor Mersu E quali erano i suoi rapporti con l'accusato? Eravamo amici Dovevamo sposarci La signorina Cardona potrebbe dirci Quando ebbe inizio la sua relazione con l'accusato? Cominciò il primo sabato di luglio dell'anno scorso Vedo, vedo Esattamente il giorno dopo i funerali della signora Mersu Andiamo, andiamo, andiamo Non vorrei insistere su una questione così delicata Comprendo gli scrupoli della signorina Ma il dovere mi costringe a mettermi al di sopra delle convenienze Io le chiedo di raccontarci che cosa avvenne il primo sabato del mese di luglio dell'anno scorso Le chiedo scusa ma devo insistere D'estate Ogni sabato io vado al mare Stavo per entrare in acqua quando l'ho visto e l'ho chiamato Dopo il bagno Abbiamo preso il sole per circa un'ora E dopo abbiamo deciso di andare al cinema E poi siamo andati a casa sua dove abbiamo passato la notte Le dichiarazioni della signorina corrispondono esattamente a quelle che ci ha rilasciato nel corso dell'istruttoria In seguito a tali dichiarazioni ho consultato i programmi di quel giorno nei cinema della nostra città Ma preferirei che fosse la signorina Cardona in persona a dirci che film si proiettava in quella sala Era un film di Fernandello Signori giurati L'indomani del funerale di sua madre quest'uomo andava a fare i bagni Iniziava una relazione irregolare e si divertiva Assistendo a un film comico Ma non è così È un'altra cosa Qui mi fanno dire il contrario di quello che penso Io lo conosco bene Non ha fatto niente Niente Andiamo signorina Venga Venga Era buono con il mio cane A sua madre non aveva più niente da dire Bisogna capire Bisogna capire Signor Presidente È innocente È innocente Nessuno l'ha chiesto degli apprezzamenti ma dei fatti Aspetti le mie domande e poi risponda Vuole dirci quali erano i suoi rapporti con la vittima? Incominciamo subito col dire che era me che la vittima odiava Da quando aveva la vittima E la vittima aveva delle ragioni per odiare anche l'accusato? Nessuna E se Mastro si trovava quel giorno sulla spiaggia è stato... è stato per caso Io vorrei che il testimone ci spiegasse allora come mai quella lettera che è all'origine del dramma è stata scritta dall'accusato Per caso? Bisogna dire che il caso ha già parecchi pesi sulla coscienza in questa storia Vorrei sapere se è per caso che l'accusato è andato a testimoniare il commissariato E se è sempre per caso che la sua testimonianza sia risultata di pura compiacenza Ci vuole ora precisare quale mestiere esercita? Magazziniere Signori giurati È pubblicamente noto che il testimone esercita il mestiere di Lenone L'accusato era suo amico e suo complice Si tratta, lo vedete, di un sordido diritto dalla più bassa specie Signor Presidente, il pubblico ministero cerca di mettere... Avvocato, la prego, lascia finire il pubblico ministero Io ho ben poco da aggiungere Era suo amico l'accusato Criminale Concludendo, signori Ho ricostruito per voi la successione degli avvenimenti Che hanno condotto quest'uomo a uccidere con piena cognizione di causa E insisto su questo Perché non si tratta di un omicidio comune Di un atto inconsulto Che potrebbe avere l'attenuante delle circostanze Quest'uomo, signori Quest'uomo è intelligente Voi l'avete sentito Voi l'avete sentito Egli sa esprimersi come si deve Non si può pensare che abbia agito senza sapere quello che faceva Io mi sono chinato sulla sua anima Ma non ho trovato niente, signori giurati Credetemi, non ha un'anima Niente di umano Neppure il più elementare principio morale Che alberga nel cuore di ogni uomo Esiste dentro di lui Senza dubbio non possiamo rimproverargli di non avere Quello che non ha saputo conquistarsi Ma in quest'aula La virtù tutta negativa della tolleranza Deve tramutarsi in quella meno facile Ma più elevata della giustizia Soprattutto quando il vuoto di un cuore Come quello scoperto in quest'uomo Diventa un baratro Dove la società può sprofondare Questa stessa corte, signori Giudicherà domani il più abominevole dei misfatti Un parricidio Io non ho paura di dirlo L'orrore che provo per quell'orrendo delitto È quasi inferiore A quello che suscita in me l'insensibilità di quest'uomo Colui che uccide moralmente sua madre Si autespelle dalla società Come colui che alza la mano assassina Sull'autore dei suoi giorni Io vi chiedo la testa di quest'uomo E ve la chiedo a cuor leggero Che se mi è già accaduto nel corso della mia lunga e gravosa carriera Di richiedere la pena capitale Mai come in quest'occasione Ho sentito questo penoso dovere Compensato, bilanciato, rischiarato Dalla coscienza di un comandamento Imperioso e sacro Per l'orrore che io provo Davanti a un volto d'uomo Dove non leggo niente che non sia mostruoso Lei ha qualche cosa da aggiungere? Posso dire solo che Non avevo intenzione di uccidere l'arabo È un'affermazione Sì Io capisco male Il sistema della sua difesa E sarei contento prima di dare la parola al suo avvocato Se Lei volesse spiegarci i motivi Che l'hanno spinta a uccidere Ecco Io Beh È stato per colpa del sole Ebbene La parola è alla difesa Signori giurati È vero Io ho ucciso Ma cosa dice? Silenzio Tutti gli avvocati fanno così Anch'io Anch'io mi sono chinato su quest'anima E contrariamente all'opinione Dell'eminente collega della pubblica accusa Ho trovato qualcosa Anzi vi ho letto come in un libro aperto Siamo alla presenza di un onestuomo Lavoratore instancabile Fedele alla ditta che lo impiegava Amato da tutti E comprensivo per le miserie altrui Mi stupisco signori giurati Del gran chiasso fatto intorno a questo spizio Questo è un figlio modello Che ha provveduto a sua madre Finché gli è stato possibile E ha sperato che una casa di riposo Avrebbe potuto dare alla donna ormai vecchia Quelle comodità Che i suoi mezzi non le potevano procurare Ammesso che occorra ancora oggi fornire una prova Dell'utilità e della magnanimità Di queste istituzioni Basterà dire che è lo Stato stesso che le sovvenziona Quindi quest'uomo non soltanto rispetta le regole della società Ma ha dato prova di aver fede nelle sue istituzioni Le scuole Gli ospedali Gli ospizi La giustizia Sì signori La giustizia Signori giurati Voi non potete condannare a morte Un uomo che ha avuto Un solo minuto Di smarrimento Mi chiedo di concedergli le circostanze attenuanti Per un errore di cui porta Già il peso Di un eterno rimorso Bravo Molto bene In nome del popolo francese La corte Dopo avere deliberato in conformità alla legge Dichiara l'accusato colpevole dei fatti addebitatili E in applicazione degli articoli della legge Lo condanna alla decapitazione su una pubblica piazza E all'alba che vengono Lo so Così passo le notti ad aspettare quell'alba Non mi è mai piaciuto di farmi sorprendere Meglio dormire durante il giorno E di notte aspettare che nasca la luce Anche se a questo punto Un rumore di passi potrebbe farmi scoppiare il cuore Infatti basta il minimo fruscio per farmi balzare la porta E qui con l'orecchio schiacciato contro il legno Aspetto disperato Finché non sento altro che il mio respiro E mi spaventa di sentirlo rauco E così simile all'artolo di un cane Il cuore non è scoppiato Ed io ho guadagnato altre 24 ore Per la terza volta ho rifiutato la visita del pregio Non ho niente da dirgli E non ho voglia di parlare Passo la giornata a riflettere Che poco importa morire a 30 anni Oppure a 70 Dal momento che si muore Come quando non ha importanza Se riesco ad accettare questo ragionamento Conquisto un'ora di calma Non ho bisogno di vedere il prete Non aver paura Lei viene di solito In un altro momento È soltanto una visita amichevole Che non ha niente a che fare col tuo ricorso Di cui non so nulla Siediti qui vicino a me No Grazie Perché rifiuti le mie visite? Io non credo in Dio Ne sei proprio sicuro? Non me lo sono mai domandato Mi sembra una questione senza importanza A volte ci si crede sicuri E in realtà non lo si è affatto Tu cosa ne pensi? È possibile In ogni modo io non saprei dire con sicurezza Quali sono le cose che mi interessano Ma sono assolutamente sicuro di quelle che non interessano E ciò di cui lei mi parla Non mi interessa affatto Non credi che sia la disperazione Farti parlare così? Io non sono disperato Ho soltanto paura Mi sembra naturale Dio potrebbe aiutarti Non è il fatto che tu sia condannato a morte Che mi induce a parlarti così Noi siamo tutti condannati a morte Non è la stessa cosa E comunque non può essere in nessun modo una consolazione Certo Ma anche se non morirai oggi Morirai più tardi Questo stesso problema ti si porrà in ogni caso Come affronterai allora questa terribile prova? Esattamente Come l'affronto in questo momento Tu vivi dunque senza una speranza? Vivi nella convinzione che con la morte sarà tutto finito? Sì Ho pietà di te Deve essere un pensiero insopportabile per un uomo Ascoltami Sono sicuro che la domanda di grazia verrà accolta Ma non è questa la cosa più importante Tu porti il peso ad un peccato di cui devi liberarti La giustizia umana non conta La giustizia divina è tutto Ma è proprio la prima che mi ha condannato Sì ma non è servita a lavare il tuo peccato Io non so che cosa sia un peccato Mi hanno detto soltanto che sono un colpevole Sono colpevole e pago Non potete chiedermi altro Tu sei in errore figlio mio Si può chiederti di più Può darsi che ti si chieda di più Come di più? Ti si potrebbe chiedere di vedere Vedere cosa? Tutte queste pietre trasudano dolore Io lo so Le ho sempre guardate con tanta angoscia Ma in fondo al cuore so anche Che i più infelici fra voi Hanno visto sorgere da questa oscurità Un volto divino È questo volto Che ti si chiede di vedere Sono mesi ormai Che io guardo questi muri Non c'è cosa Né persona Che io conosca meglio al mondo Sì forse Da principio Vi ho cercato anch'io Il disegno di un volto Ma Quel volto aveva il colore del sole La fiamma del desiderio Era il volto di una donna Che si chiama Maria Ma l'ho cercato in vano Adesso è finita E comunque non ho mai visto sorgere niente Dal sudore di queste pietre Posso abbracciarti No A me dunque questa terra tal punto Sì No Non posso crederti Sono sicuro che ti è accaduto Di desiderare un'altra vita Sì naturalmente Ma Questo non è più importante Del desiderio di essere ricchi Di nuotare veloci O di avere una bocca più bella È nello stesso ordine di cose Vorrei sapere Come Immagini quest'altra vita Una vita In cui possa ricordarmi di questa E adesso ne ho abbastanza signore Mi lasci in pace Mi resta poco tempo Non voglio sprecarlo con Dio Perché mi chiami signore E non mi chiami padre Lei non è mio padre E sta con gli altri No figlio mio Io sono con te Ma tu non te ne rendi conto Perché il tuo cuore è cieco Pregherò per te Non voglio che tu preghi per me Ti senti tanto sicuro è vero? Eppure nessuna delle tue certezze Vale il capello di una donna Non sei neanche sicuro di essere vivo Perché vivi come un morto Sembra Sembra che io abbia le mani vuote Ma io sono sicuro di me Sicuro di tutto Della mia vita E di questa morte che sta per venire Sì io non ho che questo Ma questa almeno è una verità Che importa la morte degli altri L'amore di una madre Che mi importa del tuo Dio La vita che ci siamo scelti Il destino che ci meritiamo Anche gli altri saranno condannati un giorno Anche tu sarai condannato Che cosa importa se un uomo accusato ad omicidio è giustiziato Perché non ha pianto al funerale di sua madre Il cane di Salamano valeva quanto sua moglie O quanto Maria che voleva che io la sposassi Ma che importa se era il mondo amico mio Come Celeste Che vale molto di più Ma che importa se Maria Offre oggi la sua bocca A un uovo per solo Non vuoi capire dunque Anche tu sei condannato E che è dal fondo del mio avvenire Vienilo Fermo Lasciatelo Lasciatelo Fraterno finalmente Sento che sono stato felice E che lo sono ancora Perché tutto si è consumato Perché io mi sento a meno solo Non mi resta che ho Perché io mi sento a meno solo Perché io mi sento a meno solo